Ancora un'intimizzazione ai danni della Dasti, azienda di Catania che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Vibo Valenza ed in quello di Pizzo. Una bottiglia contenente liquido infiammabile e dei proiettili sono stati rinvenuti davanti ad un capannone situato nella zona industriale di Maierato. Il fatto è stato subito denunciato ai carabinieri che ora stanno indagando in tutte le direzioni per fare piena luce sull'accaduto. Secondo quanto si è appreso, ad accorgersi della bottiglia contenente liquido infiammabile ed alcuni proiettili fatti recapitare davanti ai capannoni dell'azienda, sarebbe stato il direttore del cantiere che ha subito provveduto a denunciare l'accaduto. L'avvertimento nei confronti della Dasti è arrivato proprio in un momento in cui la stessa ditta si trova alle prese con una forte contenzioso, avendo pure subito pesanti sanzioni da parte del comune di Vibo Valenza per alcune inadempienze contrattuali, mentre gli stessi dipendenti mostrano una certa preoccupazione per il futuro, considerato che a dicembre scade il contratto ed il comune di Vibo Valenza sta predisponendo il relativo bando di gara per una nuova assegnazione con tutte le incognite che questo comporta. Intanto, a proposito dell'intimidazione subita, i carabinieri della stazione di Maierato hanno subito avviato le indagini per risalire gli autori del gesto. Gli investigatori stanno monitorando gli impianti di videosorveglianza dei quali è dotata l'area e nella quale vengono depositati i mezzi della nettezza urbana. Non è la prima volta, oltretutto, che l'impresa siciliana subisce intimidazioni.